e preoccupazione per il quadro generale ovviamente, però grande anche determinazione perché sono gratificato per l'ennesima volta e quindi grande determinazione nel mio impegno successivo. Alla luce della sua esperienza anche parlamentare, governativa, che idee si è fatto, quale governo ci sarà, come si farà il governo? Io immagino uno schema molto semplice, cioè la coalizione di centrodestra sicuramente non ha i numeri parlamentari ma ha certamente la maggioranza. Quindi c'è stato un patto davanti agli elettori su dieci punti programmatici, questo patto noi lo rispetteremo come Forza Italia, come Lega, come Fratelli d'Italia. Credo che ci tocchi questa opportunità, poi vedremo se si riescono a trovare i numeri che rafforzano questa volontà dell'elettorato. È una maggioranza relativa ma è certamente la maggioranza. Siccome in queste ore si sta esaltando un'altra maggioranza che è sicuramente numericamente inferiore alla nostra, io credo che abbiamo diritto e dovere di provarci. Chi sarà Premier? Il patto fra di noi e gli elettori era che chi tra di noi all'interno avesse ricevuto più consensi avrebbe fatto il Premier. L'elettorato ha detto Salvini e io credo che tocchi a Salvini, poi sarà lui stesso a decidere se farlo in prima persona o trovare insieme agli altri leader un'altra soluzione. Si parla anche di un'ipotesi di governo però che vede la possibilità che il Movimento 5 Stelle sia lei con il PD. Voi cosa pensate rispetto a questa idea? Che non mi dispiacerebbe l'idea di fare cinque anni all'opposizione. Così dire le cose e non misurarsi con la difficoltà della gestione è una cosa molto semplice. Non mi spaventerebbe l'ipotesi di trascorrere cinque anni all'opposizione di un governo di questo tipo. Ma io credo che non ci sarà. Lei ha guardato alla parte buona del risultato elettorale, lei ce l'ha fatta, insomma c'è stata comunque una buona attestazione. C'è di fatto che in Campania i collegi, ad eccezione di quello di Agropoli, sono andati tutti ai grillini. Rispetto a questo dato qual è il suo commento? Che una parte dell'elettorato del PD, una parte consistente, ha lasciato il PD a votare i 5 Stelle. E' matematico. Nell'unico posto dove ha mantenuto un po' il PD ad Agropoli, noi con i voti nostri siamo riusciti a passare. Questa è la lettura che do io poi.